allora ragazzi per quanto riguarda il problemino avuto in fase di flash del firmware patchato durante la procedura di root e più in particolare per quanto riguarda la possibilità del fatto che in download mode si potesse trovare lo stato in pre normal e con l'errore vb meta che cosa dobbiamo fare abbiamo ripristinato il firmware stock quindi la procedura da rifare da zero abbiamo ripristinato la procedura stock facciamo la procedura di avvio stacchiamo anche il telefono allora vi faccio vedere il trick e ballack per fare in modo di ripristinare la situazione quindi poter flashare il firmware appacciato ok facciamo ignora ignora adesso ci troviamo nella schermata principale colleghiamoci comunque ad una rete ok io adesso mi collego alla mia ok passo rarata mi collego alla mia e dobbiamo andare a modificare la data quindi andiamo in impostazioni impostazioni bla 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 attiviamo impostazioni andiamo in data date ora date ora togliamo date ora automatica mettiamo la data antecedente almeno di due settimane ok perfetto poi andiamo a verificare manualmente un aggiornamento ok il software aggiornato a questo punto ritorniamo le impostazioni andiamo in date ora data date ora impostiamo la data in automatica e riavviamo in questo modo abbiamo risolto il problema e possiamo flashare il file patchato e quindi bypassare la lo stato pre normal del download mode l'errore vb meta ciao ciao